Sembra fatta o quasi per Ike Udano in bianco verde, il lungo americano ha rotto con la formazione canturina, coach Brienza ha provato per l'ultima volta a riguscire lo strappo con l'atleta americano, ma non c'è stato verso perché ha deciso di prendere una strada diversa. L'allenatore si è ritrovato a comunicare alla società di non poter fare affidamento sull'atleta ed ora i nuovi soci saranno costretti a ritornare sul mercato per inserire a contratto una nuova pedina. Ma che fine farà Udano? Arriverà in Irpinia o prenderà altri lidi? Ci sono diverse chance di vederlo in bianco verde, ma la società avellinese sta attendendo che avvenga la recessione ufficiale tra l'atleta ed il suo club di appartenenza. Probabile che il giocatore o lasci qualche mensilità o possa essere pagato un buyout. Il club irpino è stato il primo ad interessarsi per davvero all'atleta, la Sidigas aspetta il via libera di Cantù per poi definire i dettagli con il cestista. A meno di intromissioni di una terza incobo da Bologna, la Scandone aggiungerà al roster Ike Udano per lunedì e attesa la fumata bianca. L'accordo in ogni caso dovrà essere formalizzato entro e non oltre il 28 febbraio.